Bene, due parole, due parole di conclusive dal nostro Presidente del Turismo di Triestini, Alessandro Sgambati. Grazie Paola, grazie a tutti gli autori intervenuti, a tutto il pubblico e quindi chiediamo come ieri con dei ricordi, dei piccoli doni che vogliamo fare agli intervenuti. E quindi cominciamo con l'amico da Berlino, Alexander Keppel, che si mette al centro. E riceve anche lui un dono, un dono punizione, un straf, un geschenk, in tristi, no, in esemplare, no, anche con questo dell'austriaria, dei nostri avi che sono dovuti, cioè hanno scelto di andare giù. Atecazatti, quindi grazie a Alexander. Aspettiamo il prossimo libro, sempre chiaramente, non saprei cosa suggerire veramente, perché è già così in pubblico e quindi continuiamo con Christian Gilbert, per il quale il premio non è una punizione, perché lui ormai è triestino, insomma è il prossimo gradino, molto molto vicino, molto poco da... Mi sono avvicinato e ho trovato un insegnante. Bene, benissimo, sai già dire una cosa importantissima. e grazie, grazie ancora, e infine, sì, con il professor... Immagino l'abbia già, perché sì, se l'abbia, e quindi, boh, quindi no, nella regione vicina... Facciamo finta che lo stia ricevendo per la prima volta. Grazie, e continuiamo con la Cristina in casa piccola, che è voluta comunque aiutarci a intervenire. Anche a lei sarà facile vedere anche tanto Abrazzano, insomma, un po' dell'influsso del triestino veneto, insomma, si riesce, e così ci siamo, e mi sembra che possiamo concludere, quindi l'appuntamento è per il prossimo Cristi Imelfart, la prossima assunzione nel 2024, dove continueremo con questa rassegna ormai, insomma, diventata quasi tradizionale, però se il pubblico vuol fare qualche domanda ancora, no, forse potrebbe essere... Io voglio sapere il professor Kitzmüller... Ecco, il professor Kitzmüller... Potremmo scrivere un giallo sul professor Kitzmüller che doveva essere presente... Il professor Kitzmüller chiede scusa, si sentiva non tanto bene oggi, ho parlato due ore prima di venire, abbiamo avuto l'intenzione di venire assieme, però, chiede scusa, ha anche un paio di anni e purtroppo si sentiva non molto bene oggi. Bene, e per concludere ringraziamo naturalmente chi ci ha ospitato, l'ottima libreria Ubic che ci ha aiutato enormemente in questo momento. Grazie. 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 Grazie.